L'unione fa la forza e amplia l'offerta culturale del Cadore. Tre storici festival musicali, Dolomiti Blues and Soul Festival, organi storici in Cadore e Dolomiti più note, si uniscono e danno vita ad una nuova rassegna che spazia dalla musica alla cultura alla promozione del territorio. Nasce così Cadore Dolomiti Music Festival che vede capofila la magnifica comunità di Cadore ed è finanziata dal progetto strategico Grandi Eventi, sostenuto dal Fondo per i comuni confinanti e dalla Regione Veneto. Un cartellone condiviso che mira a comunicare e promuovere il Cadore come terra musicale d'eccellenza, valorizzando una tradizione antichissima e diffusa ma preservando allo stesso tempo l'unicità delle singole proposte. Mettere insieme le energie e le collaborazioni vuol dire veramente riuscire a raggiungere degli obiettivi più elevati e a promuovere meglio questo nostro Cadore. Gli appuntamenti coprono tutta l'estate da sabato 13 luglio a sabato 7 settembre e tracciano un itinerario musicale che permetterà di scoprire 58 location tra rifugi alpini, chiese e siti storici. Circa 80 gli artisti coinvolti, tra i quali molti quelli di caratura internazionale e con un contorno di iniziative in grado di far conoscere il territorio con visite guidate, foco sugli artisti, mostre, degustazione di prodotti d'eccellenza. Il nostro sito visitdolomitibellunesi.com ci riporta mensilmente i report di ciò che cercano le persone che vogliono visitare il nostro territorio e i grandi eventi sono una delle motivazioni principali di viaggio. Sul nostro territorio ce ne sono tanti e tutti di valore, però effettivamente quando si riesce a fare squadra, come in questo caso, il valore dell'evento aumenta. Importante, come detto, il contributo ottenuto attraverso il progetto per i grandi eventi, finanziato da Fondo per i Comuni di Confine, Provincia di Belluno e Regione Veneto. Il fondo ha stanziato 50.000 euro che sicuramente sono stati essenziali. Sono state anche una spinta per mettersi insieme e questo è anche un segnale importante anche per il resto del territorio, credo. Questi fondi essenziali non sono naturalmente sufficienti perché la spesa per i tre festival è almeno il doppio e quindi devo ricordare qui l'apporto di tanti altri soggetti, a partire dai comuni o da varie associazioni del territorio, ma anche in particolare del Consorzio dei Comuni Bimpiavi di Belluno e della Fondazione Cari Verona.